Perciò il programma Tony è svelare i segreti del cocktail, conoscere i grandi barman e soprattutto capire se troveremo il cocktail perfetto. Segnati tutto che poi ti interrogo. Vabbè adesso andiamo anche a mangiare qualche cosa perché altrimenti qui non ce la facciamo Non si può bere un drink se prima non mangi. Andiamo va. Grazie, ciao, andiamo. Grazie a tutti.